Allora giuro che posso spiegare E a tutti i ragazzi sono il vento da Ringo su un nuovo video di Ale Clasher Nuovo video, non ne ho mai fatti Volevo mettervi una maschera ma dato che non siamo al carnevale E io le maschere le butto tutte Ho fatto in questa maniera qua Forse non è stata la migliore delle idee Non direi Oggi siamo qua per presentarmi Tutti mi conoscono Però dire di cosa si tratterà il canale Ho già registrato due video Che saranno questo e questo Uno uscirà venerdì e l'altro uscirà domenica Quindi tutti a vederlo quando usciranno Mi raccomando perché sono delle bombe Le ho già montate, le ho già programmate Quindi in questo canale si parlerà di Minecraft Infatti uscirà come avete potuto vedere Un video di Minecraft Poi usciranno Funny Moments Come uscirà Avete visto con Famino Funny Moments è sul karma E giochi non definiti Che devo registrarlo Effettivamente sì Cosa uso? Allora Uso Filmora OBS Quindi io non so che altro dire Giusto Sarà un video a settimana Ma dato che adesso siamo nelle feste Nel periodo delle feste Ci saranno tre video a settimana Poi Ogni A giorni non definiti Probabilmente ogni venerdì devo ancora decidere Mi direte voi Ci saranno delle live Magari anche in questi giorni Probabile Dopodomani nuovo video Questo non era niente di che Comunque la intro l'ho fatta con Panzoid Non voglio dire che l'ho fatta io come tanti fanno L'intro fatta palesemente con Panzoid E vi lascio il link qua sotto per crearvi la vostra intro Come microfono ho questo qua È una Il microfono Sì Che pizza è la webcam È un Blue Yeti Giusto Però in questo periodo Eh sì vabbè grazie Che però in questo periodo non si sta comportando molto bene Come vedrete nel video di Minecraft Che ho registrato due giorni fa Giusto uso anche questo Me ne ero completamente scordato Questo per la copertina Quindi spero che questo vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel mi piace Commentate qua sotto Quindi Non si vabbè Perci